belen rodriguez al mugello non perde il motop tifa andrea iannone è un'ultra caldissima in canottiera e jeans scordando ancora una volta il reggisengono con la showgirl argentina la sua crev oltre alla famiglia che l'ha accompagnata alla gara del fidanzato con la 32enne pure prisca rossi flavio piacenza patrizia griffini milca e pietro tavallini detto pietrino al mugello e box belen rodriguez osserva attentamente la gara cattura gli sguardi con la mise ott non è solo il suo tifo a essere caldo da manforte al bel compagno ed è concentrata mentre lui corre sulla sua suzuki andrea iannone è stato vittima di un problema di salute è stato colpito da un virus intestinale che lo ha molto debilitato punto al motop del mugello però scende in pista anche se